Buongiorno a tutti, dodicesima puntata della nostra scuoletta dei desideri. Altra regola, anche questa facilissima da capire. Ogni desiderio può contenere al massimo 14 parole. Della precisione abbiamo parlato abbastanza nelle scorse puntate, adesso parliamo della concisione, concisione, brevità. All'inizio io non lo sapevo, per cui la mia primissima brutta dei desideri conteneva desideri che erano più che desideri dei discorsetti. Immaginavo per esempio una casa in montagna, allora una casa in montagna spiegavo come era fatto il giardino, come c'era la veranda, la vista, le piante nel giardino, cosa c'era accanto, e venivano fuori 8-9 righe di descrizione. Poi, rileggendolo, quel desiderio lì mi accorgevo che quelli più lunghi, come quello, erano quelli che io non desideravo sul serio. Non ero solo messo in mente. Non li desideravo e mi convincevo di desiderarli allungando la descrizione. Invece quando qualcosa la desideri davvero, la esprimi in un attimo. È chiaro. Questo lo capivo via via, eh, pian piano. Anche perché, dunque, c'era una frase nel famoso discorso di Gesù sul chiedere, sulla preghiera, nel discorso della montagna, a un certo punto quando dice non pregare in pubblico, perché solo gli ipocriti pregano in pubblico, aggiunge a un certo punto, dice, quando pregate non parlate tanto, non usate tante parole, come fanno le persone di altri popoli, perché loro credono di venire esauditi per quella che si chiama in greco la polulogia, ma, cioè, i discorsi lunghi, praticamente si sforzano di convincere e persuadere Dio ad esaudirli. Dici, non va bene, non va bene, bisogna essere concisi. Allora, mi sono convinto della concisione, poi pensavo, come si fa a precisare questa concisione? In che misura? E mi viene in mente quattordici parole. Perché quattordici? Non lo sapevo. Mi è venuto in mente quattordici. A me è sembrato giustissimo come cifra, però non sapevo perché. Poi, ragionando, dico, forse è perché una frase di quattordici parole si può dire con una sola emissione di fiato. E per un po' mi sono convinto di questo. Ma non è vero. Puoi dire anche una frase di 16, di 18 parole in una sola emissione di fiato. Quindi non era questo un problema. Quindi pensavo, chissà perché. Poi mi capita sotto mano questo, nei racconti di Borges, c'è un racconto che si chiama La scrittura del Dio. che è la storia di un sacerdote di Montezuma che durante la conquista spagnola viene preso, torturato, chiuso in prigione perché, per gli spagnoli, perché riveli dove è nascosto il tesoro. I conquistatori volevano l'oro. Lui non vuole dirlo. Allora, in questa prigione, lui chiede aiuto al suo Dio e dice, rivelami una formula magica che mi faccia vincere gli spagnoli. Leggo questo libro, Borges, bellissimo da legge, a questo punto arrivo quando descrive la scoperta della formula magica e dice, pensa che mi sono sentito leggendo, è una formula di 14 parole casuali, che sembrano casuali, e mi basterebbe pronunciarla ad alta voce per essere onnipotente. Mi basterebbe dirla per abolire questo carcere di pietra, perché il giorno invadesse la mia notte, per essere giovane e immortale, perché il giaguaro lacerasse i conquistadores, e per poter affondare il santo coltello in petti spagnoli, per ricostruire la piramide e l'impero, 40 sillabe, 14 parole, e io governerei le terre governate da Montezuma. La coincidenza, ho pensato, belle, sempre belle le coincidenze. Poi a una conferenza, raccontavo di questa coincidenza qui, tra gli altri a sentire c'era un rabino, di cui poi siamo diventati, di cui poi sono diventato molto amico, e chiacchieravamo dopo, lui dice, ma tu veramente non sai perché hai detto che le parole devono essere 14? Dico, no, è venuto in mente così, come ho raccontato, e dice, conta un po' le falangi della mano, quante sono le falangi delle dita? Io conto, e dico, sono 14? Certo, dice lui. Poi a loro piace, no? Ai mistici, a loro piace giocare, lavorare con i numeri, no? Per cui 14, 1 più 4, fa 5. Le 5 dita della mano. E tu hai detto che i desideri si scrivono con la mano, a mano. Vedi come torna tutto? E dico, ma tu lo sapevi già che 14 ha questo significato? Certo, migliaia di anni lo si sa. E io non lo sapevo. Coincidenza, forse non è la parola giusta. È preveggenza. Ho fatto qualcosa che poi sarebbe il risultato giusto, ma non sapevo che fosse giusto. Non sapevo perché. L'ho visto con una parte della mente che va oltre il tempo. Ecco, questa parte della mente che va oltre il tempo, nei desideri, si rivelerà spesso, la sperimenterete spesso, avrete l'impressione di dire in anticipo cose che stanno per succedere. forse non è perché le fate succedere. Forse è perché stanno già per succedere prima che voi le diciate. Immagina di camminare dentro un fiume controcorrente, no? Sei un essere straordinario che cammina nel fiume controcorrente e vede arrivare cose nel fiume, no? Le vede da lontano, giusto il tempo per tendere la mano e prenderle se gli interessano. È un po' così nei desideri. Però non le vedi con gli occhi, non le vedi neanche con la mente le cose in arrivo, le occasioni in arrivo. Le, tra virgolette, le vedi, tra virgolette, le senti, le percepisci in qualche modo. E la preveggenza è un argomentone, un argomentone. Adesso la prossima puntata sarà sulla preveggenza nei desideri. Tanto ricordatevi le quattolici parole per questa volta. Ecco, tutto lì. A presto.